Siamo arrivati a casa dove sono cresciuto Questa era la casa in cui tu sei Mio fratello Aurelio l'aveva messo a posto un po' e poi l'abbiamo venduta perché ci viene più Certo Qui c'era la camera da letto sopra poi c'era un caminetto qui dove cucinavano C'era la finestra Ed è quella parte della camera da letto pure Però qui mi dicevi poco anzi fuori onda c'era, faceva del video In italiano sarebbe trappito chiamavano Sì ma diciamo che è più per l'olio insomma Vabbè, facevamo del vino Facevamo del vino, c'era tutto in cemento lì E tu cavalcavi Ti prestavi Allora eri giovane e ti divertivai pure Questa era parte nostra pure Adesso non so che cosa Mio fratello ha venduto qua per quattro soldi Vai in macchina E poi fai E da qui si scendeva per andare all'ortalite che chiamavamo E qui c'erano i miei internati zii e bisnonno che avevano quelle mantrie di capra e pecore Non che pascolavano giù le mantrie Ah ok erano proprio posizionate lì Cantavano di qui E più c'erano gli orti e gli ortaggi E più c'erano gli orti e 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 gli orti